Rettore, oggi una nuova aula intitolata a Carmine Pecoraro dal nome Sala della Solidarietà. Cosa vogliamo ricordare, cosa vogliamo dire? La forza di una comunità, qual è quella della Università di Salerno con i suoi 2.400 dipendenti, con i suoi 40.000 studenti, è avere la memoria e l'attenzione rispetto a tutti i punti della nostra Università. E quindi oggi questa intitolazione a Carmine Pecoraro, scomparso nel 2013, che ha lavorato nel personale tecnico, è appunto la sottolineatura del fatto che questa comunità, una comunità forte, con una forte reputazione a livello nazionale e internazionale, trae la sua forza, la sua ragione di esistenza nel senso profondo di attenzione alla propria comunità, tutte le componenti, anche a coloro che non ci sono in più. E quindi un momento che abbiamo voluto condividere con la famiglia ed è un momento per sottolineare che se oggi il nostro Ateneo ha raggiunto certi risultati dal punto di vista delle nuove immatricolazioni, che sono in aumento, del numero dei laureati in corso, che sono in aumento, il numero dei laureati complessivi, della diminuzione dei fuori corso, tutte queste azioni sulla didattica, sui risultati che avremo a breve sulla ricerca, sono avuti proprio perché ha sempre prestato attenzione rispetto a tutte le componenti e quindi, come dire, anche perché questa è proprio tipica e caratteristica del nostro Ateneo, che è strutturato in forma campus, in cui lo stare insieme è un obbligo. Grazie.